C'era la necessità di dare un segnale forte alla propria stagione, c'era la volontà di mettere a segno un acuto di quelli importanti, come è saputo fare nel 2012, conquistando ben tre titoli nazionali a livello giovanile. Francesco Fortunato, andriese classe 94, tesserato con l'Enterprise Sport & Service di Benevento, ci è riuscito nuovamente portando a casa una splendida medaglia d'argento dai campionati italiani individuali che si sono svolti di recente a Rieti. Sì, meglio di lui ha fatto nella 10 km juni soltanto Vito Minei, il dominatore dell'attuale stagione. Poco male per Fortunato, a cui resta a lui e al suo allenatore Antonio Lopetuso la doppia soddisfazione di essere salito sul gradino intermedio del podio e di aver realizzato un crono decisamente importante. Questa prestazione mi ha dato abbastanza fiducia, dato che questa stagione non era cominciata nei migliori dei modi. Infatti ho avuto qualche delusione, un po' di problemi a treno in forma, però penso che al momento giusto sto trovando le giuste motivazioni e i risultati che stanno arrivando. Aveva proprio bisogno di una gara dove si autoconvincesse delle sue possibilità. Rieti è stata la gara giusta, la motivazione giusta, ha ritrovato, quindi penso che adesso è pronto per affrontare bene la Coppa Europa. Francesco Fortunato è già tornato ad allenarsi ad Andria per la precisione sulla pista del Sant'Angelo dei Ricchi, insieme al suo compagno di squadra, anche di nazionale e amico Alessandro Cusmai. Obiettivo preparare gli europei juniores che si svolgeranno sempre a Rieti dal 18 al 21 luglio. Fortunato vuole fare bene ma preferisce evitare proclami. Sto continuando ad allenarmi come faccio sempre, tutti i giorni. Per le esperienze passate, per esempio l'anno scorso i mondiali di Barcellona, non voglio andare con alcuna aspettativa lì, se non quella di sapere di aver dato il massimo e tornare a casa soddisfatto della mia prestazione. Considerando le condizioni e vari fattori in gara, penso che valgo già attualmente il mio miglior tempo di sempre. Spero di centrarlo nell'appuntamento importante. Il suo allenatore Lopetuso invece sa che Fortunato può ricoprire un ruolo da protagonista in ambito continentale. Siamo pronti per questa Coppa Europa con l'obiettivo di migliorare sicuramente il personale. Migliorando il personale di Francesco, salirà sicuramente se non sul podio ma comunque nei primi cinque in Europa. Un Andries sul podio continentale, livello giovanile già c'è stato, ovvio il riferimento a Vito di Bari, che ormai è una realtà della marcia italiana. Imitarlo non sarà affatto semplice, considerata la guerrita concorrenza, ma a volte i sogni diventano realtà.